Sono in crescita più 7,2% le imprese di giovani che operano in agricoltura in provincia di Arezzo. Sono i dati della Camera di Commercio. Il 9,4% delle imprese aretine sono giovanili e di queste il 9,5% sono nel settore agricolo. Questo, afferma Tullio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana e Arezzo è un chiaro segnale del ritorno dei giovani ad un tipo di attività sempre più caratterizzata dall'approccio imprenditoriale orientato al mercato e di un progressivo ricambio generazionale all'interno delle imprese agricole aretine. Secondo gli ultimi dati Coldiretti a livello nazionale salgono a quasi 600.000 le imprese italiane condotte da under 35 con un saldo positivo record di 50.000 rispetto all'inizio dell'anno. E quanto a innovazione i giovani agricoltori aretini non sono secondi a nessuno. Non è un caso che un giovane imprenditori aretino, Benedetto Baracchi di Cortona, è stato da poco riconosciuto il produttore di uno dei 50 spumanti più buoni del mondo.